Qualcosa ti turba mia cara? Ho paura che ci sia una difficoltà Quale difficoltà? Mentre cercavo di rimettere a posto i suoi ricordi Mi sono accorta che alcuni erano spariti Ma non so come sia potuto accadere Credevo che il nessuno di loro l'haveste assorbiti Però mi sbagliavo Procedi pure, non tutti i ricordi sono indispensabili Ma se quei ricordi fossero importanti? Se fossero la chiave Namine Tu possiedi il potere di controllare i ricordi di Sora E di coloro che sono legati a lui Cosa vedi che a me sfugge? Se Roxas non ha preso quei ricordi Allora sono dentro di lei Lei? 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 Lei?